Ritiamo questo principio fondamentale. È provato che un unico punto centrale, essenziale e fondamentale è in azione e attrae tutto a sé nella forma magnetica e antimateriale di un trascendente Dio. Questo è veramente provato dal fatto che noi, enti relativi, osserviamo sempre ogni azione solo in quella uguale e contraria. Così una vita vista ora in atto, propria e mortale, è la prova indiretta che un Dio la trascende e la fa essere tutta in potenza, condivisa e immortale. Questa è la prova che quella famosa evoluzione della specie che è stata teorizzata nel passato è indubbiamente quella che noi vediamo, evolversi nel futuro di un tempo. Ma, proprio in quanto noi vediamo il tempo evolvere verso il futuro, il tempo sta evolvendo davvero verso il passato e sta devolvendo. Certo, io vi sto sorprendendo perché sono il primo filosofo con il quale voi siete in contatto, che sta rinnegando la verità di tutto quello che noi vediamo nell'apparenza di un universo che avanza nel tempo con il lato elettrico e con la materia, mentre in verità indietreggia nel tempo con il magnetismo e con l'antimateria. Visto che noi vediamo in modo relativo e che questo modo relativo ci mostra il correre della corrente elettrica e il movimento della massa, noi possiamo essere certi che questo correre relativo è relativo alla corsa uguale e contraria che indietreggia nel tempo e che è quella vera, che condiziona la nostra vista relativa nell'azione uguale e contraria. Ma sono il primo al mondo che si sta richiamando sulla verità dell'essenza e non sulla verità di quanto appare relativo e relativo al trend nel tempo uguale e contraria al vero. si ripa a una verità che ha un'evoluzione nel tempo che non è una evoluzione, è una devoluzione, è un ritorno al passato. Sono cose veramente in azzo che annichiliscono e rientrano nel loro precedente essere in potenza. Certo a noi può sembrare sborditivo tutto ciò perché vediamo sempre l'evoluzione tra ciò che è in potenza e che poi diventa in atto. Ma questo si rifà a due modi possibili di vedere. Una A che appare diventare B, ma appare così sulla base uguale e contraria di una B che ritorna ad essere A. Senza questa fondamentale retrocessione vera, noi non vedremmo l'apparenza uguale e contraria. Per cui il bravo Darwin che prese sul serio l'evoluzione e che fu contrastata terribilmente dalla fede perché sembrava negare Dio, non nega Dio, porta alla conclusione di un unico centro di attrazione che riconduce tutto a sé ed è proprio Dio. Per cui l'evoluzione della specie teorizzata da Darwin non è una prova contraria a Dio che comanda, ma è proprio una prova che la valla attraverso l'apparenza di quanto è uguale e contrario nella dinamica rispetto alla dinamica vera, che appartiene allo spirito, ossia all'antimateria, al magnetismo, ma che è visto nel contrario. Il quale aspetto contrario? Essendo contrario, invece di muoversi in un verso, appare muoversi nel verso opposto. per cui una vera vita che sta tornando all'origine, noi vedendola affidata alle entità opposte allo spirito e all'antimateria, la vediamo affidata alla corrente elettrica e alla materia e ci mostra che va verso la fine, fine che invece è proprio un moto che dalla fine riporta al principio. Dobbiamo capire che la verità assoluta è l'esistenza del tutt'uno, il quale esiste non solo nel suo esistere in potenza, tutto in potenza, ma anche nel suo esistere tutto in atto e anche in tutte le posizioni intermedie tra un principio e una fine. Ora, questi sono i due limiti assoluti che esistono entrambi, come il principio di un film e la fine del film, con tutti i fotogrammi intermedie. Noi vediamo il divenire del film perché a un fotogramma, ossia una situazione, vediamo sostituirsene un'altra e ci sembra che la prima sia divenuta l'altra, si sia evoluta nell'altra. Vediamo A divenire B, ma questa verità non è vera, perché c'è sia A che B. L'uno non diviene mai l'altro, ma può apparire, divenire la A, la B sulla base di un divenire precedente e a rovescio in cui la B rientri nella A. Insomma, immaginiamo di tenere fermo il nostro punto di vista e immaginiamo di avere tutto un film bello in riga in modo che il primo fotogramma corrisponda al nostro punto di vista. Noi dobbiamo muovere tutto il film verso destra se vogliamo avanzare con la nostra vista verso sinistra. Se non operiamo un movimento non vediamo il movimento opposto, ma vedendo il movimento opposto noi siamo tratti poi in inganno dal divenire, ossia dalla tesi riconosciuta vera di Eraclito. Vera, ma non affatto vera, perché non è vero che A diventa B e diventa C, ma è vero che esistono A, B e C perché esiste 10 elevato a 0 che è uguale a 10 elevato a 1 moltiplicato 10 elevato a meno 1. Il 10 elevato a 0 è la forma tutta impotenta. Nella sua sintesi più 1 meno 1 uguale a 0, ma c'è anche la forma analitica di un 10 elevato a più 1 e di un 10 elevato a meno 1, perché la verità è una e trina, come esattamente spiegò Gesù Cristo.